Buonasera, benvenuti a Target, si avvicina l'estate, è finito l'inverno, siamo in una primavera che comincia a riscaldarsi e allora tornano anche i concorsi canori estivi, tutto questo per dire che stasera è ospite con noi il Presidente dell'Avis provinciale, il Dottor Walter Belluzzi, grazie di essere con noi, perché l'Avis ha promosso un concorso canoro che ormai è famosissimo, una voce che si nota e sta per tornare. Sì, sta per tornare, siamo quasi pronti, abbiamo acceso i motori e cominciamo a mettere in pista tutte le nostre attività. Non è così lontano, perché magari qualcuno dice, ma no, ma sarà giugno, sarà luglio, no, no, quest'anno c'è una novità. Aprile, metà aprile, sì, inizieremo a metà aprile, in quanto quest'anno abbiamo inserito una novità, che speriamo sia una novità piacevole, in quanto i ragazzi che vorranno iscriversi per il nostro concorso canoro saranno sottoposti a delle preselezioni, preselezioni che si svolgeranno in vari punti della provincia, la prima sarà il 18 di aprile a Villa Poma, poi ci sposteremo a Via Dana il sabato 8 e domenica 9 maggio, a Guidi Zolo faremo la terza preselezione, sabato 15 e domenica 16 maggio. Preselezione direi d'autore, in quanto i ragazzi si esibiranno ovviamente dal vivo, accompagnati al pianoforte da un musicista, quindi avranno modo di far vedere in pieno le loro dotte. Ecco Presidente, immagino che le preselezioni siano necessarie, perché l'anno scorso avete superato ogni previsione di iscrizione, davvero c'era tantissima gente che voleva cantare, ora per chi ancora non conoscesse questo concorso facciamo un passo indietro e chiariamo perché l'Avis che si occupa di donazioni del sangue fa un concorso canoro. Certo, infatti non bisogna mai dimenticare questo perché Avis non è un'agenzia di spettacolo ma appunto si occupa della sensibilizzazione, della gestione dei donatori e della raccolta del sangue in provincia di Mantua. Abbiamo pensato che il concorso canoro fosse un ottimo sistema per coinvolgere i giovani, perché sappiamo che il linguaggio della musica è un linguaggio universale, i giovani sono molto attratti dalla musica, quindi dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi alla nostra associazione attraverso la musica ci sembrava un connubio veramente positivo e veramente valido. Però mi perdoni, bisogna essere donatori per partecipare al concorso? No, assolutamente no, anzi diciamo che Avis fa da catalizzatore dei ragazzi che si vogliono iscrivere perché nelle nostre 93 Avis sparse per la provincia, chiunque volesse partecipare, ricordo che il concorso è aperto a ragazzi dai 18 ai 35 anni, non è aperto ai gruppi, ai duetti sì e chi si vuole iscrivere indipendentemente dal fatto che sia o meno donatore si rivolge ad una Avis di base, ce ne sono ripeto 93 su 70 comuni e quindi sicuramente si trova. Posso garantire che sono vicino a casa vostra, è così. Certo e quindi tramite l'Avis di base si viene iscritti a questo al concorso, si fanno le preselezioni e poi ci saranno le sei serate che inizieranno il 18 di giugno, via via anche lì ci sposteremo sempre nei vari punti della provincia, saremo a Malavicina, a Via Dana, a San Benedetto Po, a Gazzardo degli Ippoliti, a Moglia e a Cerlongo e poi sorpresa ci sarà la serata finale, quindi i ragazzi che si sfideranno nelle varie serate faranno una finale e quest'anno vogliamo dare anche un tono più di spettacolo veramente a tutte le serate. Adesso aggiungo una cosa che è giusto che la dica io, Mantua TV seguirà tutte queste serate, le riprenderà, le manderà in onda la sera successiva e magari in diretta l'ultima serata. Ecco noi siamo molto soddisfatti di questa... Davvero noi ci teniamo ad essere vicini all'Avis perché state facendo un lavoro straordinario, vicini ai giovani perché è sicuramente un'occasione per avvicinarsi ad un movimento che è sanissimo, che garantisce la vostra salute e che in qualche modo davvero vi induce a fare del bene, che è la cosa che conta di più nella vita. Volevo chiederle questo, lei ha notato che alcuni dei cantanti, chiamiamoli così gli artisti, che si sono cimentati negli anni scorsi, poi siano diventati anche donatori? Sì, alcuni sono diventati donatori, ma quello che è veramente interessante è che nel corso delle serate in cui si è svolto il concorso, tanti ragazzi, spettatori hanno dato l'adesione alla nostra associazione. Vorrei citare dei numeri che magari possono dare un'idea, però questa è la terza edizione, diciamo che dall'altro anno all'anno scorso abbiamo avuto un incremento dei nuovi donatori di circa 200 unità, su mille donatori nuovi tutti gli anni è una ottima percentuale, la stessa cosa si è verificata lo scorso anno, quindi ci piace pensare che il concorso Canoro veramente ci abbia aiutato a fare un po' da cassa di risonanza per il nostro messaggio che è quello della donazione. Avis è sicuramente ultra conosciuta, però ha questa capacità proprio di andare sul territorio, non ci sono soltanto gli spot televisivi o cose che riguardano lettere, ma ci sono proprio programmi e campagne promozionali che sono molto vicine alle persone, questo credo che faccia la differenza e che vi contraddistingue. Le chiedo questo, ora in un momento, una domanda che le posi anche l'anno scorso quando venne per la prima volta, in un momento in cui la solidarietà sembra un po' in ribasso, lei invece nota che la nostra terra sia un po' preservata da questo male? Ma direi che la terra mantovana per quanto riguarda Avis è sempre stata e continua ad essere molto sensibile, prova ne sia che delle 32 mila sacche di sangue che raccogliamo sul nostro territorio, circa la metà servono ai nostri ospedali e li soddisfano in pieno per le loro necessità, l'altra metà viene ceduta ad ospedali della nostra regione, oltre ad ospedali della Sicilia, Sardegna e Lazio, quindi questo denota sicuramente una grande sensibilità. Io dico che però abbiamo la possibilità di crescere tantissimo perché i donatori di sangue in rapporto alla popolazione sono solamente il 5% della popolazione, quindi abbiamo un grande spazio per poter crescere. Presidente, oggi mi sento anche di dire questo alla luce dei dati che da lei, sono successe in quest'anno, da quando ci siamo visti l'ultima volta a Target, alcune sciagure internazionali, alcune anche in Italia, penso al terremoto dell'Aquila, poi il terremoto di Haiti, quello in Cile. Avis Mantova ha promosso anche iniziative in favore di questo Certo, abbiamo promosso un'iniziativa, per fortuna, quella devo dire in maniera ben chiara e precisa, non è mai mancato il sangue nei territori dell'Aquila in cui sono successi i fatti del terremoto, Avis Provinciale assieme alle Avis della provincia ha organizzato una raccolta fondi per quelle zone e siamo stati proprio in dicembre in un piccolo paese che si chiama Poggio Picenze in provincia dell'Aquila in cui grazie al nostro contributo è stato costruito un centro di aggregazione sociale, quindi un campo da pallavolo, calcetto e basket perché in quei luoghi, parlando con il Presidente provinciale dell'Avis dell'Aquila, ha detto che ormai tanti oggetti, tante cose non arrivate ma dovevano ricostruire il tessuto sociale e quindi queste piccole cose, che però per un piccolo paese di mille abitanti è una grande cosa, aiuta le persone a rimanere e non cercare di andare fuori dal loro territorio. E sarà anche pleonastico ricordarlo, però tutti coloro che fanno parte dell'Avis sono volontari e quindi non hanno alcun tornaconto personale in tutto questo. Presidente, siamo alla fine della nostra chiacchierata, io spero di ospitare nelle prossime settimane e anche altri membri dell'Avis, così di settimana in settimana, proprio nell'approssimarsi degli appuntamenti che lei ci ha citato all'inizio, verranno a spiegarceli con dovizia di particolari. Sicuramente, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei, io mi scuso per la mia voce ma per fortuna non devo cantare a una voce che si nota, poi sarei fuori età, quindi non ci sono problemi ma l'influenza ha colpito. Grazie a voi di averci seguito, l'appuntamento con Target alle prossime edizioni, a risentirci. Buonasera. Buonasera.